Sinergie 2021, siamo qui a margine dell'evento, Simone Rossi, che esperienza è stata Sinergie 2021 per te, per la tua azienda, Gateway, che è stata partner di questo evento? Sicuramente è stata un'ottima esperienza e devo dire finalmente in presenza perché ce n'era proprio bisogno, c'è bisogno di rincontrarsi, c'è bisogno di creare delle sinergie, c'è bisogno di allacciare rapporti con altre aziende, con Artipartner e il mercato immobiliare ha bisogno di questo, quindi era veramente ora e sono molto contento di essere qua, è sicuramente stata un'ottima esperienza per noi, anche se non la prima. Questo hashtag ripartenza, quanto la senti tua e della tua azienda in questo momento? Ma è assolutamente importantissimo, abbiamo vissuto comunque due anni in una specie di bolla, anche se per carità nessuno si è fermato, anche noi abbiamo spinto sull'acceleratore il più possibile proprio per non fermarsi, però c'è bisogno che riparta un pochettino tutto quanto. E sta succedendo, noi stiamo vedendo anche nel mondo, noi trattiamo ovviamente il mercato degli acquirenti stranieri e stanno esplodendo, c'è una voglia d'Italia da parte degli acquirenti stranieri che è incredibile e noi la stiamo intercettando benissimo, c'è bisogno di investire ancora di più, c'è bisogno di muoversi, c'è bisogno di accoglierla e di preparare un terreno fertile per far sì che quando arrivano loro si sentano accolti. Ci vediamo a Sinergia 2022? Sicuramente. Bene, gli abbiamo strappato questa promessa.